Ciao a tutti, io sono Fabrizio Benelli e oggi sono in compagnia di Valentina Castelli. Ciao Valentina. Ciao Fabrizio, ciao, grazie per aver pensato a me oggi. Di nulla. Quest'oggi parleremo di fashion blogging. Prima però di iniziare con le domande, Valentina, ti chiederei di fare una piccola presentazione di te stessa. Cosa fai e un po' quella che è la tua storia. Prego. Allora, io sono Valentina Castelli, abito a Civitano a Marche e sono una social media manager freelance, quindi mi occupo appunto di tutto quello che riguarda i social, ma seguo soprattutto aziende di moda e in particolare aziende di calzature, vista insomma la zona da cui provengo. In più mi occupo anche di musica, ho un'etichetta discografica dove produco diversi pezzi, soprattutto deep house, insomma dance e quindi mi occupo anche insomma del settore musica. Ogni tanto mi chiedono anche di fare delle playlist, quindi come si dice oggi in gergo sound designer, però nasco comunque come social media. Perfetto, direi una vita dedicata all'arte. Passiamo ora alla prima domanda. Come diventare fashion blogger? Quali sono secondo te i consigli che bisognerebbe seguire e quali, se ce ne sono, le pratiche da evitare assolutamente? Allora, io quello che mi sento di dire dalla mia piccola umile voce è di non credere a chi scrive, perché oggi ci sono moltissimi articoli, quindi di non credere a chi scrive qui dei semplici trucchi per diventare fashion blogger, perché non è vero, cioè non ci sono dei trucchi, non ci sono delle regole. Diciamo che la vera fashion blogger di oggi non deve andare a vedere il blog, che ne so, oppure di Chiara Ferragni, oppure di Chiara Biasi e imitare e copiare, perché durerebbe pochissimo. Io dico che deve avere un po' di competenze comunque di public relation e soprattutto deve saperne di marketing, quindi di web marketing, quindi sapere come si comportano gli utenti nel web e anche cercare comunque di, sì vabbè, anche di esperienza nel campo della moda, di avere qualche un po' di esperienza. Ovviamente l'esperienza nel campo della moda è soltanto una piccola percentuale, perché? Sì, perché magari qualcuno mi insulterà perché dice, ah si fai la fashion blogger ma non ne sai nulla di moda. Ebbene sì, perché comunque più sai di social, più ti sai muovere all'interno del web, più fai personal branding, quindi su di te, cioè dici quello che ti piace, quello che fai, comunichi con gli utenti la vera, ecco ad esempio io, la vera Valentina, più le persone ti seguono, quindi crei una community di fedeli che poi, insomma, cresce da sé una volta che comunque capisce che sei sincera. Quindi il primo consiglio è la sincerità, sincerità, fare personal branding ma non personal branding studiato, cioè il personaggio della tv, bensì personal branding democratico, quindi parlare proprio con, insomma, come parleresti con un'amica tranquillamente. Ecco, c'è un esempio appunto che volevo portare, insomma, della mia community, insomma, che mi segue sempre. Qualche giorno fa ho twittato un pezzo, sbagliando, nella mia rubrica Tina Sound, io ho una rubrica da poco tempo su Twitter dove posto alcuni pezzi appunto che mi chiedono anche dei clienti, insomma, da inserire nelle playlist, quindi pezzi di tendenza e mi hanno retwittato, nonostante nella descrizione, la descrizione fosse sbagliata, cioè fosse di un altro brano, perché non era assolutamente quello. E le persone che continuavano a retwittare. E qualcuno mi ha criticato dicendo, ah, qualsiasi cosa metti, le persone, insomma, ripostano, fanno, commentano. No, non è vero. Però questo fa capire, questo esempio estremo, come, insomma, cioè le persone poi, una volta che credono in te, credono che sei sincera, comunque, ti seguono e hai una community, crei questa community di utenti, di fedelizzati, appunto, poi vengono dietro tranquillamente e si fidano. Quindi, c'è sincerità per personal branding e cercare comunque di creare fiducia, fiducia nelle persone. Oggi è la cosa che manca principalmente in tutto, anche nei rapporti umani, invece, insomma, anche per fare la fashion blogger serve tantissima, insomma, fiducia, perché devi fidarti, soprattutto perché oggi la fashion blogger è vista come quella che fa pubblicità, un po' come gli spot pubblicitari. Ecco, una borsa, perché l'azienda mi ha pagato e quindi io ti faccio vedere questa borsa, anche se magari la borsa fa schifo. Ecco, io questo, per esempio, non lo faccio, in questo sono molto pecora nera, quindi, perché non è il mio stile, cioè, rappresenta me stessa, non direi mai una cosa che non penso. Poi, dopo, ci sono altri fashion blogger che fanno altre cose, però io dico che è meglio, insomma, la trasparenza totale, anche, appunto, nel web, anche se sei di fronte ad uno schermo di PC o di tablet o di, appunto, smartphone, devi assolutamente parlare in modo democratico, perché nel momento in cui ti metti su un piedistallo sei già fuori, cioè, nel senso, sei già te tv, spot pubblicitario e le persone, appunto, le lasci ad un livello più basso e quindi lì no, non, cioè, non guardare, ecco, poi dopo, poi vabbè, c'è chi arriva, insomma, come le più famose, arriva a un livello, ma lì stiamo parlando di persone che hanno iniziato diversi anni fa quando ancora qui in Italia non c'era il fenomeno fashion blogger. Quindi, assolutamente, sincerità e saper creare una community, una community di persone che ti seguono, ma non perché, chissà, appunto, posti le foto delle vacanze al mare, foto stupende, magari anche rubate, perché c'è anche questo fenomeno di rubare le foto, no, posti te stessa, anche senza avere la paura di mostrare le tue debolezze, quindi, o di chiedere un consiglio, cioè, anziché dare consigli, come spesso viene chiesto le fashion blogger, te, magari chiedi, cioè, chiedi alla tua community che cosa posso fare, ho questa difficoltà, quindi, ecco, cercare di instaurare un rapporto proprio molto, molto alla pari. Tutto molto chiaro. Passiamo ora alla seconda domanda, entriamo maggiormente nel tecnico. Ne hai già accennato, parliamo di web marketing. Quanto incide nella professione per essere una fashion blogger di successo il lato più legato alla passione e anche, volendo, al buon gusto, piuttosto che quello legato al SEO, al content marketing e, appunto, al personal branding, come hai parlato prima? Ci deve essere, come ho detto prima, un equilibrio molto, molto stabile tra tutte e due, tra la passione, il buon gusto, il bello anche di essere nel web, quindi, appunto, parlare continuamente con persone in tutto il mondo e poi gli aspetti SEO e il content marketing, quindi il fatto di sapere come si scrive un articolo, il fatto di sapere come funziona WordPress, il fatto di, insomma, anche saper utilizzare comunque tutti gli strumenti che poi il web e comunque il social media marketing ci mettono a disposizione. Molte si affidano a delle agenzie, io non mi sono mai affidata a un'agenzia, sempre fatto tutto da sola perché una volta che tu studi degli strumenti, io sono laureata in marketing e ho fatto una testi sul web marketing, quindi ero già un po' avvantaggiata, però una volta che comunque ti metti a studiare, ci sono tantissimi strumenti, libri, scorsi, conferenze, ti metti a studiare il web marketing, quindi tutte le tecniche di SEO e di, appunto, content marketing, come dicevi te, quello ti rimane, ti rimane dentro e ti rimane anche per altri progetti, perché magari, cioè, non farai la fashion blogger a vita, magari farai, curerai il web marketing di qualche altra azienda come accade a me. Adesso, per esempio, so, ho un cliente nel settore fitness, il settore fitness non è il mio settore di competenza, eppure andiamo benissimo, perché comunque gli strumenti poi sono, insomma, a seconda, diciamo, si possono, appunto, adattare poi a seconda del settore. Quindi, quello che dico io è cercare di apprendere il più possibile le tecniche di SEO, di, appunto, web marketing, però cercare di equilibrarle, perché troppo SEO, troppo, appunto, troppa cura del web marketing non va bene, perché magari poi rimane la, cioè, spersonalizzazione, cioè, il fatto che non sei neanche più te. E troppa passione, troppo gusto, ma poi nessuno ti trova nel web, e lo stesso non va bene. Quindi, lo so che è scontata come risposta, però ci deve essere equilibrio, un equilibrio pazzesco, perché soprattutto nella moda che cambia continuamente, quindi devi essere continuamente aggiornata, devi dare continuamente anche contenuti visual, io lo vedo, soprattutto con Instagram, le persone sono sempre lì a cercare, a vedere quello che fai, devi un po' mediare, ecco. Molto interessante. Passiamo ora all'ultima domanda. Parliamo di social media. In che modo questo strumento può essere utilizzato per aver successo in questo settore? E soprattutto, tu come lo utilizzi? Allora, beh, i social media sono fondamentali per le fashion blogger, ma per i blogger comunque in generale. Ovviamente, quando ti occupi di moda, come dicevo prima, il contenuto visual la fa da padrone. Quindi, spesso mi capita che le persone, appunto, guardino magari più i miei contenuti visual, magari anche a livello di articoli, quando ho posto gli articoli, quindi le foto, e magari si soffermano pochissimo a leggere l'articolo. Quando invece magari uno è stato molto, ci si è impegnato molto, ha scritto un bel articolo, eccetera. Questo è il, cioè, bello e brutto del settore moda, ecco. Perché molti vanno, per esempio, vedo molti fashion blog con foto solamente, cioè foto di look, e poi i nomi del rebrand che indossano. Ognuno ha la sua strada. Io, come ho detto prima, preferisco invece la strada del contenuto, quindi scritto con qualche foto insieme. Utilizzo tantissimo Instagram. Però, quello che appunto voglio dire, anche a una ragazza che approccia da adesso il mondo dei fashion blogger, è di sapere bene che Facebook, Twitter, Instagram, e tutti gli altri hanno un diverso tipo di approccio. Quindi, su Instagram, la tua foto appunto avrà determinate interazioni, avrai un certo pubblico. Su Facebook avrai un altro pubblico e sarà anche un modo appunto per fare public relation. Su Twitter invece devi aggiornare comunque le persone, la community su quello che appunto fai, anche gli articoli che scrivi. Twitter, no, è il social, io lo chiamo il social più intellettuale, tra virgolette, perché comunque vedo persone che mi seguono molto per i miei contenuti. Quindi ecco, quello che c'è da sapere soprattutto, ma questo vabbè, comunque tutti i blogger, è che i social media sono un grande strumento e una grandissima opportunità per farsi notare. Perché io per scrivere comunque per redazioni esterne, io scrivo per redazioni esterne, ho scritto anche per una grande redazione, sono stata notata tramite i social media, tramite Facebook, Twitter, ecco, Instagram, i principali nomino. E da lì, ecco, però devono essere usati in maniera molto, molto cauta. Non deve essere mischiato troppo il privato con il profilo professionale, se si ha un profilo dove comunque si condivide, insomma, tutto quello che si produce a livello di contenuto, perché poi diventa una commissione dove le persone che magari vengono sui tuoi canali social per vedere quello che fai realmente, per vedere la fashion blogger Valentina Castelli, non ci capiscono più nulla. Quindi mi raccomando, ecco, cercare di avere una linea, una linea. Se io mi specializzo, vedo anche su Instagram molti profili specializzati, proprio sulle calzature, e da lì, quindi, o sui gioielli, conosco blogger che parlano solo di gioielli, e lì però devi specializzarti poi anche su Instagram, non è che mi puoi postare qualsiasi cosa così a caso. Devi seguire un minimo di strategia, che non significa essere freddi o essere comunque un'azienda, di quelle come fanno appunto le grandi aziende, però, insomma, un minimo di coerenza, ecco, un minimo di coerenza e tornare, come ho detto nella prima risposta, alla sincerità. Cioè, sincerità e trasparenza, comunque, anche quando magari posti qualcosa di lavoro, contenuto, articoli, scritti, qualsiasi cosa, ecco. Valentina, è stata un'intervista molto interessante, purtroppo siamo arrivati alla fine, quindi ti ringrazio per averci dedicato il tuo tempo, che so essere molto prezioso. Grazie a te, Fabrizio. Io ringrazio te e ringrazio soprattutto quelli che ci hanno ascoltato e li invito a mettere mi piace sui nostri canali sociali di Digital Coach e anche ai tuoi, se sono ovviamente interessati al settore della moda e delle fashion blogger. Sì, un'ultima cosa, che nei social mi trovate come Tina Telly, che è il diminutivo di Valentina Castelli, anziché appunto con il mio nome, tranne su Facebook, il resto è tutto Tina Telly. Perfetto. Ciao Valentina, grazie ancora. Ciao Fabrizio. 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 Grazie a tutti.